Buongiorno a tutti, mi chiamo Luana Velarde, ho partecipato molto volentieri alla sessione organizzata da Professione Finanza questo pomeriggio a Roma sulla finanza comportamentale, tema che io sento molto vicino sia da un punto di vista professionale perché è anche il mio ambito e sia da un punto di vista proprio della mia passione perché sono studi che ritengo assolutamente necessarie e che vengono prima degli aspetti tecnici. Sono molto felice che finalmente il 12 giugno verrà Richard Tanner in Italia e non vedo l'ora di essere in prima fila per sentire le scoperte degli ultimi 30 anni. Grazie Luana per essere stata con noi e ti aspettiamo il 12 giugno, a presto. Grazie a voi.